Siamo l'ultimo paese, diciamo, della cerchia europea che riparte, nonostante siamo uno dei paesi più vaccinati dell'area europea, con oltre il 90% della popolazione protetta, quindi non ripartire vorrebbe dire in qualche modo non riconoscere l'alto valore che hanno i vaccini, quindi a me spiace di dover purtroppo assistere a che qualcuno all'interno del governo italiano forse non creda fino in fondo nei vaccini. Se oggi siamo dove siamo e abbiamo tanti contagi, ma pochissime persone che vanno in ospedale o quantomeno pochissime persone che hanno forme gravi grazie ai vaccini, quindi io credo che dobbiamo iniziare una nuova fase e quindi speriamo che inizi presto questa nuova fase e di levare presto tutte le restrizioni in modo tale che si entra in una fase nuova, che è quella della convivenza con il virus. Ognuno, se vuole, potrà usare la sua mascherina, potrà decidere di non uscire o di non partecipare a determinati eventi perché ritiene che magari non sia sicuro, ma non deve succedere questo per un obbligo di legge. La quarta ondata è quella che è iniziata sicuramente con lo scorso dicembre, oggi siamo di fronte non a una nuova ondata, ma siamo di fronte a una nuova ondata di un virus diverso, perché oggi la gente, lo vediamo, non arriva in ospedale con la polmonite, oggi la gente sta a casa con una forma influenzale, con un raffreddore, stiamo parlando ovviamente di chi è vaccinato. In ospedale ci va chi ha il tampone positivo e magari altri problemi. Quindi io credo che bisogna stare attenti anche a guardare unicamente i contagi perché sono un indicatore fuorviante. Noi dobbiamo guardare qual è la pressione sulle terapie intensive, sugli ospedali delle forme gravi e oggi evidentemente in tutto il nostro paese, o almeno nella maggioranza, non c'è un problema. Con Omicor 2, soprattutto nei soggetti vaccinati, devo dire che i sintomi sono veramente molto blandi, mal di gola, un po' di tosse, un po' di febbre, qualche doloretto articolare, cioè totalmente diverso rispetto a quello che abbiamo visto nel 2020 dove avevamo queste polmoniti impressionanti. Io credo che le mascherine al chiuso abbiano fatto il loro tempo, ovvero per usarle come le stiamo usando oggi, che è una presa per i fondelli vera, cioè dove la gente si mette la mascherina non perché crede nella mascherina, ma perché deve mettersela, non ha senso continuare. Chi ritiene opportuno utilizzarla e ovviamente se lei mi dice cosa consiglia una signora di 80 anni o un fragile, di mettersi la mascherina, però di mettersela adeguata, una FFP2, che con una durata adeguata, perché noi abbiamo gente che porta le FFP2 da un mese e mezzo e le FFP2 durano tre ore. Allora attenzione, perché questo sistema dell'obbligo dell'utilizzo della mascherina ha fatto sì che noi abbiamo preso questo presidio, lo consideriamo meno di quanto varrebbe per alcuni soggetti. Quindi usciamo da questa logica dell'obbligo per tutti e chi la vorrà usare la continuerà a utilizzare. Dopodiché, per evitare questa presa per i fondelli, che entri al ristorante con la mascherina, ti siedi al tavolo, poi vai in bagno, ti rimetti la mascherina, quando ti metti il cappotto te la rimetti. Cioè, siamo in una situazione veramente paradossale. Io credo che sia giusto arrivare l'obbligo della mascherina, rimanendo ovviamente il concetto che chi si sente più sicuro lo utilizzerà. Oggi, di quarta dose, gli unici che la devono fare sono i fragili, gli ultra fragili, cioè gli immunodepressi. Tutti gli altri ne riparliamo nel prossimo autunno.